Robi, puoi vedere la faccia che fai? La signora Marica, secondo me, la sciola Marica, nel 1899, decide di avere un portafoglio, 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 un portafoglio. Quindi il portanova ha fatto subire questo periodo. E poi come è successo? Quando ci siamo trasferiti alla porta Roma, è stata azionata per tutta, col'altra maestra d'Ascia, si è iniziato a un intervento che si è iniziato a fare l'anno, che dopo è superiore, che si è iniziato a fare l'anno, e lavorarono fuori in strada, quello che ha costruito la ponte, ha fatto un buono. La ponte è stata costruita qua, cosa sta costruita? C'è, che arriva, visto che la ponte, quella che porta una protezione, si è iniziato a fare l'anno, e si è iniziato a fare l'anno, e si è rimesso da l'anno. ci sta dicendo per esempio quando scarichi per andare a gioia di un vecchio lento dal 1210 non è mai stata una scontata quindi svuoti ma te lo sento che era male giusto che prende a macerazione in più prima di andare a un po' di un piccolo e un vecchio lento devono raggiungere i sedi lavorati dicevo prima ciole un altro quindi questa è la particolarità che nasce sotto tanti mi dicono ma è una riserva speciale quando sono vicino sono đây non è che la sua ma è una persona dovrà fare la sua e venite poi Grazie.